Riccardo Costa, una partita fantastica in entrambe le parti, una sconfitta diciamo non meritata, però comunque avete trovato abbastanza bene, positiva questa partita per voi. Sì, è stata una partita abbastanza combattuta, peccato perché siamo stati in vantaggio fino al terzo quarto, poi abbiamo sofferto purtroppo gli infortuni di scappo che purtroppo forse hai mai si è stirato. Abbiamo anzi giocato con i ragazzi del 2000 e 2001, come Giovanni Centrofanti e Natale Suraci, e comunque l'apporto sempre che non manca mai dei ragazzi in fantina. Grande prova di questi piccoli ragazzi che man mano stanno facendo un'esperienza per loro indimenticabile, ci stanno dando una grossa mano. In più abbiamo me che ancora col piede non ho recuperato del tutto, Antonio Gugliano che ha giocato pure con un'infortuna da gamba, mio cucino pure Nazareno che ha lasciato andata. Insomma, stiamo soffrendo purtroppo agli infortuni che purtroppo ci sono, però è una bella partita, tutte le parti, complimenti a entrambe le squadre. Grazie.